Questo buchè fiorito che... è troppo fiorito sto buchè Hanno messo troppi fiori, qualcuno lo dovevamo togliere Ciao ragazzi e ciao ragazzi Nuovo video Eurospin Eurospin Finalmente ce l'ho fatta Perché era un casino casino di tempo che volevo tornare all'Eurospin E farvi di nuovo un altro video Perché l'ultimo video è forse l'unico sui prodotti dell'Eurospin Che vi ho fatto risare a un sacco di tempo fa Comunque se non l'avete visto vi lascio il link cliccabile come al solito in sovraimpressione E nel box informazione Adesso sono andata all'Eurospin Infatti vi ho fatto anche il vlog in diretta nel suo mercato Sul mio secondo canale E ho trovato tante cose Sono stata felicissima perché sono andata in un Eurospin un po' più fornito, un po' più grande E ci sono tante cose bio, tante cose con buoninci Quindi sono felice, altre cose fanno schifo, vabbè Quindi dobbiamo stare attente Come al solito nel vlog se volete vedere quel video Io vi do anche tanti consigli in diretta Proprio su cose da evitare Perché ce ne sono Postano poco Comunque ricordiamoci che l'Eurospin Vende prodotti veramente a pochissimo Quindi bisogna approfittare Mi raccomando se vi piacciono i miei video sui prodotti al suo mercato Lasciatemi un bel pollice in su, un bel like Così appena ricevo tanti tanti like ne giro subito un altro Perché capisco che vi piacciono Evviva! Io sono stata gazzata perché Mi piace troppo sta cosa Dei prodotti che costano poco e sono buoninci e potete comprare al suo mercato Perché so che sono tutte le cose che voi mi richiedete Io leggo sempre tutte e tutte le vostre richieste Un prodotto che forse mi è piaciuto un po' di meno Ovviamente non mi sento di bocciarlo Perché comunque è un prodotto che ha un buoninci È completamente bio, naturale Di questa marca Natura Bella Che appunto potete trovare all'Eurospin È un bagno doccia Che è anche molto molto grande È molto carino anche il packaging Però a me il profumo non è piacuto per niente Odora tipo di detersivo per i parimenti Ve lo giuro perché è così fiorito Lo uso sotto la doccia Sapete quando entri in casa E tu mamma ha lavato casa Oh tutto pulito Il detersivo a terra Fa pochissima schiuma Quindi questa cosa Però più del fatto che fa pochissima schiuma È il delicato, molto delicato È il profumo Questo bouquet fiorito Che è troppo fiorito sto bouquet Hanno messo troppi fiori Qualcuno lo dovevano togliere insomma ragazzi Vabbè Per genti Ce ne erano alcune In parte di questa marca Natura Bella Che secondo me è veramente bella Appunto come ci dice È bella e buona E c'erano questi due Che sono appunto due detergenti Come potete vedere uno è per bimbi Infatti c'è scritto mani e sederino Con l'estratto di avena Di agricoltura biologica Sono tutti bio Naturali Hanno un buon inci Sono veramente ottimi come prodotti Infatti se guardiamo lì Ci sono anche molto molto delicati Però praticamente Cosa c'è da dire Che questo qua mani e sederino Essendo proprio per bambini È molto 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 delicato Quindi lo posso consigliare A chi aveva sempre una pelle Anche sul viso Si può utilizzare Però se avete la pelle molto delicata Che sia rossa Questo va benissimo Per i bambini Che ve lo dico a fare Ottimo Potete utilizzarlo Proprio per Anche per lavarli Come bagno schiuma È veramente ottimo E invece questo qua Detergente delicato Viso e mani Mi è piaciuto veramente tantissimo Perché è un detergente Che ho utilizzato Proprio per le mani Per le mani Non per il viso Per le mani Un po' per tutto E fa schiuma La va bene Non aggredisce Però fa più schiuma Di questo qua Ed è veramente buono Mi è lasciata la pelle morbida Purificata Hanno entrambi Un profumo Molto simile Di buono Sempre un po' Fiorito e fresco Però meno del bagno schiuma E mi piacciono tantissimo Veramente Sono prodotti Che vi posso Straconsigliare Come moltiuso Se vi trovate Le loro sping Epidiatri Per le mani Per il viso Sono veramente Ottimi E poi c'è questo qua Che è quello Che ho utilizzato di meno Perché ho utilizzato più Gli altri due E questo è l'intimo Anche questo Lo trovo perso Che è simile A quello là Cambiano un po' Di estratto Ad esempio Quale c'è l'estrato Di salvia Io poi come sapete Utilizzo spesso Il detergente È intimo Anche sul viso Perché è un prodotto Se è eco bio È delicato È appunto Non aggressivo È un pH acido Quindi lascia la pelle Molto pulita E purificata Soprattutto se avete La pelle grassa È ottimo È proprio la salvia È un lestrato Che c'è qua dentro È molto purificante Contro i brufoli Brufoli Stringe i pori dilatati Della pelle Quindi molto Molto purificante Quindi anche questo qua Ha un ottimo profumo Io sia Puma intimo Ma anche sul viso E per le mani Insomma Qualsiasi trovate Di questi tre Ho detto quello là Proprio viso e mani Specifico Lava un po' di più Fa un po' più di schiuma Però anche questi due Gli altri due Sono veramente Ottimi Poi piacciono Proprio come packaging Anche da metterli Sul lavandino Sono carini Sono semplici Sono carini Sono molto pratici Con questi dispenser Che vai Poi ragazzi Poi ragazzi Della linea Fior di Magnolea Ho trovato tante cose Che non andavano bene Veramente Tipo per esempio Lo struccante Tante cose Ve l'ho detto Anche in quell'altro video Hanno paraffine Hanno silicone Veramente sono da evitare Però ho trovato Queste salviettine Che ci dice Salviettine Fior di Magnolea Intime Lo ci dice intime Ma si possono utilizzare Anche per esempio Come salviettine Multiuso Per pulirsi le mani Oppure anche per struccarsi Sono molto molto delicate E contengono Gella d'aloe vera Ed estratto di calendula E timo Quindi sono anche queste qua Molto molto purificanti Indicate Per chi ha la pelle mista E grassa Altre salviette Che ho trovato Sono queste qua ragazze Che ci sono Sia in formato Più piccolo Che più grande Queste sono proprio salviette Per i bimbi Insomma Sono molto comode Queste qua Perché si chiudono Mi durano tantissimo Le utilizzo A volte anche per struccarmi Perché sono così delicate Hanno estratto di avena Bisabololo Sono veramente ottime Non hanno altro Nulla Oppure Ho detto Per pulirsi le mani Magari te le metti in borsetta Quando sei fuori E costano pochissimo Ovviamente Essendo salviette Berli Non prettamente struccanti Sono molto delicate Non struccano tantissimo Se avete molto trucco Dovete comunque fare Prima una passata Di struccante Oppure potete fare A volte faccio così Sulla salvietta Ci versate Proprio sulla salvietta Un po' di acqua struccante Eccetera E così diventa Ancora più struccante Comunque Hanno poi un profumo Di bimbo Di culetto di bimbo Troppo belline Sulla marca Natura bella Il bimbo di magnoli Avevo parlato anche Della marca Hello baby Sempre dell'orospina Super top Sempre di questa marca Natura bella E questa qua Questa non ve la fate scappare Se andate all'orospina E la trovate Prendetela Costa poco E' una crema All'osso di zinco Veramente Veramente Ottima Ai primi ingredienti L'osso di zinco Che è un ingrediente Molto lenitivo E purificante Poi c'è il muro di karité E c'ha dei estratti Fantastici Gel d'aloe vera Altea calendula C'è il miele Questa qua Ve la straconsiglio Non solo per il cambio Pannolino Qua ci dice Per cambio pannolino Ma post depilazione E' una di quelle Creme all'osso di zinco No Ve ne parlo spesso Di queste creme All'osso di zinco Ve la feci anche io In casa Perché è veramente Una cosa che si deve avere In casa Una scottatura Una puntura D'insetto Post depilazione Vi bruciate Una qualsiasi cosa E' lenitiva Quindi tutti i rossori Combatti anche La follicolite Nelle gambe E' veramente ottimo L'osso di zinco Anche Vi feci il video Sui rimedi Per combattere I brufori Vi ricordate E vi consigliai Proprio una crema Vi dissi all'osso di zinco Ecco questa va bene Proprio Andate a vedere quel video Utilizzata sui brufoletti Quindi Stra 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 Consigliata Non ve la fate scappare Perché molto spesso Le pomate all'osso di zinco Anche per bambini In commercio Senza far nome Le conoscete Sono famosissime Hanno paraffina E hanno slifoni Quindi i culetti dei bimbi Sono sempre più arrossati Poverini Quindi no 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 Mamme mamme Comprate questa Diffondete questo video E fatelo vedere Alle vostre amiche mamme Che hanno i bimbi Questa costa poco Questa pomatina Ed è ottima Questo qua Dentifricio E sono contenta di farvelo vedere Perché voi spesso mi chiedete anche dei dentifrici Questo qua Sensitive White Fresh L'ho comprato proprio all'euro spin E come ince è abbastanza buono C'ha il gel d'aloe vera C'ha Vari ingredienti appunto Ottimi Sbiancanti Non è Molto molto Sbiancante Molto aggressivo Cosa che può essere Positiva o negativa Dipende dai vostri gusti Però ve lo dico Cioè non mi sento la bocca Super Ah Fresh Fresh Quelle cose super infrescanti Glaciali No E' abbastanza E' delicato E' confortevole Comunque già la cosa Che non ha un brutto sapore Già E' ottima E comunque Qua ci dice che per Gengive sensibili Forse anche perciò E' un po' Delicatino Però vi devo dire la verità A me piace Lo trovo molto naturale E mi piace Mi sento che non mi aggredisce Quindi Se avete problemi Salminamento alle gengive Questo va bene per voi Quindi questo è tutto ragazzi Mi raccomando Guardate anche il blog Dell'euro spin Vi lascio tutti i link utili Nel box Informazione Spero che questo video Vi sia piaciuto Aspetto tanti like Per fare subito Un nuovo video Sui prodotti Da suo mercato E nei commenti Fatemi sapere Se voi avete provato Questi prodotti Se ne avete trovati Altri a loro spin Ma anche in altri Suoi mercati Sapete che io Vado sempre a fare Queste missioni Proprio io di persona Comprare le cose Nei suoi mercati Perché adoro Trovare queste occasioni Queste offerte E appunto A poco prezzo Quindi se avete da consigliarmi Ditemi io sono pronta Telecamera Telefonino Vado Compro E vi faccio i video E vi mando un bacio grandissimo Ciao Ciao